Musica Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata Mara Dal Zocchio che è capogruppo della Lega in Consiglio Provinciale a Trento, benvenuta. Grazie per l'invito. Vogliamo parlare con lei innanzitutto del cosiddetto Urban Pass, questa misura che è stata introdotta già da alcune settimane sull'autostrada del Brennero. Come sta andando e chi coinvolge? Dobbiamo ricordare a chi ci sta ascoltando che l'Urban Pass è un accordo che è stato siglato tra la provincia di Trento e la società autostradale A22 per permettere agli utenti di usufruire gratis della tratta Rovereto Sud-Trento Nord nelle fasce orarie dalle 6 del mattino alle 9 e dalle 17 alle 20. È stato introdotto il 7 di febbraio e ai primi di marzo io ho presentato una question time per chiedere appunto alla Giunta di avere informazioni a proposito dell'utilizzo di questo Urban Pass. Devo dire che la risposta mi ha colpito molto positivamente perché sono stati attivati nel giro solo di un mese 1660 Urban Pass, ci sono stati 3300 contatti di richieste di informazione all'autostrada del Brennero e soprattutto è aumentato il traffico del 30% in quelle fasce orarie. Questo vuol dire anche che si è allentato il passaggio delle veicoli all'interno della città di Rovereto che veniva utilizzata ovviamente nel tratto per arrivare fino a Trento. Ricordiamo infatti qual era lo scopo proprio della misura dell'Urban Pass, una misura alla quale ha tenuto molto anche proprio il governatore Fugatti. Sì perché lo sappiamo benissimo che la città di Rovereto e i paesi limitrofi come quello di Volano e Cagliano purtroppo sono oberati dal traffico, il traffico purtroppo è sempre più sostenuto e quindi c'era la necessità di fluidificarlo e questo Urban Pass è nato proprio per questo e sta portando i risultati che tutti speravamo. E speriamo quindi che poi venga prorogato anche perché per ora è una misura sperimentale, vero? È una misura sperimentale perché poi valuteremo anche i risultati che ci darà proprio l'Autobrennero che sta monitorando l'Urban Pass e quindi in base ai risultati proprio si vedrà se prorogare questa iniziativa che dal mio punto di vista è assolutamente utile e da dei risultati molto buoni. Parliamo ora di un altro argomento di strettissima attualità, i rincari dell'energia. La provincia in particolare che cosa sta facendo contro il caro energia? Allora innanzitutto dobbiamo dire che la crisi energetica è sotto gli occhi di tutti e sta colpendo indistintamente le famiglie e anche le imprese. Le cause sono un po' da ricercarsi nelle scelte ma anche nelle non scelte del passato da parte dei governi nazionali ma anche da parte dell'Europa. Purtroppo se pensiamo al Trentino, solo per il Trentino, ecco gli oneri che dovranno sopportare le famiglie si aggireranno intorno ai 200 milioni di euro, quindi una spesa considerevole. La provincia tenendo conto anche delle iniziative messe in campo dal governo sta pensando a delle misure, diciamo tampone, emergenziali per le famiglie e per le imprese. Infatti ha predisposto un fondo di 25 milioni di euro che verrà erogato tramite l'assegno unico provinciale che prevede un bonus per le famiglie al massimo di 400 euro in base ovviamente al reddito e alla situazione patrimoniale. Ma ha pensato anche ad aiutare le imprese che chiedono più liquidità pagando quindi gli interessi, un accordo fatto con le banche ma soprattutto pensa ad iniziative per sostenere tutte quelle imprese che più di altre ne risentono della crisi energetica che potrebbe anche toglierle dal mercato e quindi in particolare si pensa a sostenere il settore zootecnico e quello agroalimentare ma ovviamente anche per l'agricoltura si pensa a dei sostegni anche tramite il CODEBRA. Poi è giusto e doveroso pensare anche al medio e lungo termine perché dobbiamo diventare autosufficienti dal punto di vista energetico e quindi la provincia sta mettendo in atto delle iniziative che verranno presentate prossimamente in consiglio provinciale che vadano proprio in questa direzione e quindi incentivare all'utilizzo del fotovoltaico, incentivare le imprese e le famiglie a questo utilizzo e quindi magari saranno previsti anche dei compensi a chi utilizzerà queste energie alternative indispensabili appunto per diversificare le richieste che insomma in questo momento stanno portando a una crisi energetica non indifferente. Purtroppo siamo legati a delle scelte che sono state fatte nel tempo, quella dell'abbandono del nucleare e poi non si è pensato anche a progettare subito alternative che in questo momento invece stiamo proponendo proprio per ovviare la crisi. Grazie, grazie infinite a Mara Dal Zocchio che è capogruppo della Lega in il Consiglio Provinciale a Trento, grazie mille e chiaramente a tutti l'augurio di una buona Pasqua. Grazie a tutti.